Ciao sono De Alma Franceschetti, blogger e consulente macrobiotica e autrice dei libri l'apprendista macrobiotico e dolci buoni sani. Prepariamo la crema calda di zucca e mela, un dolcetto molto leggero ma assolutamente appagante che io utilizzo proprio per togliere la voglia di dolce ma serve anche per eventuale fame nervosa e momenti di stress. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!